La dietetica cinese si concentra spessissimo sull'idea che i cibi posseggano jing. Il jing è la quintessenza e la quintessenza è fondamentale per nutrire la quintessenza del corpo. Tanto più i cibi posseggono jing, tanto più sono in grado di nutrire questa forma di energia, si dice in medicina tradizionale cinese, che è data una volta per tutte al momento della nascita e che poi ognuno di noi dovrebbe cercare di conservare, proteggere, mantenere, ma che non può mai aumentare. I cibi particolarmente ricchi di jing sono quelli freschi, ma tra i cibi freschi i germogli, che sono dei cibi che stanno in quel momento attivando la loro vitalità, sono considerati nella dietetica cinese tra i cibi più ricchi di jing. I germogli di soia si ottengono attraverso un fenomeno di germogliazione del fagiolo Moong e non della soia gialla, come spesso si è tentati di pensare. Vediamo qui un'immagine del fagiolo verde o soia verde o fagiolo Moong. Dal punto di vista della dietetica cinese, i germogli di soia hanno natura fredda, anche questo è particolarmente interessante, sapore dolce, e si indirizzano con il loro tropismo a nutrire stomaco, intestino crasso, mitzapancreas. Dunque, i visceri dell'apparato digerente e il pancreas, che è l'organo che favorisce l'assimilazione e la digestione dei nutrienti. Dal punto di vista della dietetica cinese, i germogli di soia, visto la loro natura fredda, disperdono il calore, ma promuovono anche la diuresi e drenano l'umidità. D'altra parte, la loro azione sull'umidità è tale da renderli idonei a trattarne gli accumuli e blocchi. Inoltre, esercitano anche un effetto disintossicante nei confronti dell'alcol. Quali sono dunque le indicazioni dei germogli di soia? L'inappetenza, la sonnolenza post-prandiali, i disturbi correlati all'eccesso di calore estivo, ma anche la ritenzione dei liquidi, l'edema, ed inoltre, artragie, dolori muscolari, sindrome reumatiche correlate a un eccesso di umidità interna. Sono indicati anche nelle verrucosi, nelle verruche abituali, nell'abuso di alcolici e nell'alcolismo. Ovviamente, visto la loro natura fredda, non vanno assunti in caso di eccesso di freddo da deficit e i germogli di soia non determinano i disturbi addominali e distinsivi propri della soia in grani o degli altri legumi. Quindi, da questo punto di vista, vista la loro digeribilità, possono essere tranquillamente utilizzati anche in pazienti che abbiano difficoltà digestive. E' molto interessante la valutazione dei valori nutrizionali dei germogli di soia. Per 100 grammi abbiamo una quantità di calorie equivalente a 49, con 1,4 grammi di grassi, 3 di carboidrati e soprattutto, questo è interessantissimo, 6,20 grammi di proteine. Dunque, i germogli di soia sono, potremmo dire, una verdura ricchissima di proteine. Poi c'è un 86% di acqua e poi presenza di oligoelementi, calcio, sodio, fosforo, potassio e di vitamine, in particolare il retinolo, ma poi anche altre vitamine del gruppo B. Dunque, i germogli di soia rappresentano una verdura estremamente interessante soprattutto per la sua ricchezza in proteine. Una verdura che ha effetto rinfrescante sull'organismo che può essere preparata molto velocemente saltandoli brevemente in padella per 2-3 minuti e in questa maniera rendendoli particolarmente digeriti. Video di medicina dall'Italia alla Cina A cura del dottor Lucio Sotte Visita il sito internet www.luciosotte.it per informazioni su Agopuntura, Medicina Cinese e Medicina Integrata www.luciosotte.it www.luciosotte.it